sono delle belle dolcezze, le più belle nonne del mondo e bisnonne anche e bisnonne, bello, andiamo con gli auguri di buon Natale ora qua c'è, vedi, la stella nelle gru in piazza Vittoria però non ci sono le luci signor sindaco, accenda un po' prima Ron e Mari siete già pronti con i pacchetti? ciao, prontissime oh che bello allora, volete fare gli auguri a qua? a chi volete fare gli auguri? di un bel Natale e un felice anno nuovo da sballo si dice a tua mammina a tutti a tutti a tutti e fidanzati almeno un pochettino come si chiamano i vostri due fidanzati? Romine, il tuo fidanzato come si chiama? Federico Luca benissimo allora, concludiamo, mandati un bel bacio a tutti però sempre la mamma per prima senti, senti oh guardalo lì e saluta ma soprattutto difende il negozio certo, vestito anche lui da papo Natale guardalo lì non serve l'allarme c'è il canionino non serve guarda che la difende sentiamo la Patrizia metta un gatto che piace al papà metta un gatto no, no, il cane allora diciamo in questa via Navona di Gorizia naturalmente il signor sindaco ma lui è già sentito perché lui sente subito vedi sono le 5 e mezza e le luci sono ancora spente il signor sindaco chiuda prima invece di notte metà notte quando vado a casa luna chiuda prima e accenda prima no? si, ci illumini di mento ecco il signor sindaco ma lui sente lui ascolta ma lui ne avrà già anche accendito tu hai visto che il sindaco è anche sempre vicino anche agli operai hai visto che era lì sotto la pioggia bene allora caro signor sindaco bene poi siamo nella via Navona di Gorizia pieno di gente vai con lo shopping shopping come si dice è l'inglese l'inglese vedi alle 5 e 40 ci accendono le luci nella via Navona di Gorizia hai visto che roba adesso vedrai che roba vedrai che roba che si arrivano dentro le nataline guardale lì guardate come si vanno più veloci ma siete così di corsa ralentate un po' visto che siete le babbo natale fermati buona paella a tutti ciao allora aspetta allora come ti chiami tu? Eleonora tu? io c'è siamo le nataline del dicembre goriziano esatto tu di che segno sei? io vergine vergine abbiamo un'annata amica torno special tu? acquario acqua innamorata vita lei e quello è bello a parte tutto volete salutare anche i vostri fidanzati o no? ascolto ci sono? abbiamo un salutone a tutti in generale in generale i fidanzati la siamo molto generi ho già capito vabbè allora fatevi gli auguri a chi volete dai buone feste felice annuno auguroni e un'azione grande mandatelo no? ciao sono rimaste sul generico probabilmente stavano cercando i fidanzatini non c'è niente cosa fare non ci salutate mai questo è il male noi poveri uomini che vi laviamo stiriamo vi facciamo da mangiare e andiamo in pensione a 40 anni voi a 65 noi a 40 scherziamo eh sicuramente scherziamo allora un grande saluto da Roby spero che vi sia piaciuto il servizio e comprate i video giornali di Gorizia che è date sostentamento alla vostra all'informazione viva la solidarietà viva la solidarietà diciamo che danno un aiuto all'informazione di Gorizia certo ecco allora un grande saluto da Roby e un grande saluto da Cristina bellissimo ci vediamo la prossima settimana ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.